Siete pronti al January Effect sul mercato del Forex? Salve a tutti, Marco Casario qui, e oggi, come ogni anno, si ripropone il cosiddetto January Effect, chiamato anche January FX Effect, FX sta per Forex, ed è quel fenomeno statistico che si verifica proprio a gennaio, su alcuni sottostanti, porto qui come esempio euro-dollaro, dove praticamente il minimo o il massimo che si verifica su quel mercato nel mese di gennaio rappresenta appunto il minimo o massimo dell'anno di tutto quanto l'anno. Che cosa vuol dire? Cerco di spiegarmi meglio. Immaginate che euro-dollaro a un certo punto a gennaio, in un determinato momento, e questo in realtà nessuno sa dirlo, però tocca un valore, ok? Un valore nel suo tasso di cambio tra queste due valute, immaginate sia 1.12. Quindi a gennaio abbiamo questo picco. Bene, quello che si è dimostrato con la statistica è che nel momento in cui si è toccato questo minimo, in questo caso 1.12, il prezzo poi durante l'anno non è mai più tornato su quel valore ed è andato verso l'alto. Viceversa potrebbe essere il successo a gennaio, immaginate che invece il tasso di cambio batteva 1.15 come massimo, e dopodiché il prezzo non è più tornato su quei massimi, ma durante l'anno è sceso. Perciò, come funziona questo January Effect? Funziona in questo modo. Nel momento in cui riusciamo ad intercettare e a capire, associando anche informazioni di tipo politiche economiche, analisi fondamentali, analisi macroeconomiche, riuscire a capire che probabilmente l'euro nei confronti del dollaro potrebbe essere più debole o potrebbe essere viceversa più forte, allora saremo in grado di aprire una posizione e sfruttare questa stagionalità, strana stagionalità a dire il vero, quindi io non so bene quali sono i motivi che ci sono dietro a questa stagionalità, ma questa stagionalità esiste perché studiandola con i numeri e con il backtesting esiste, e proprio questo voglio farvi vedere con il video di oggi. Quindi, un like se questo video vi è piaciuto, vi lascio la parte pratica, ragazzi, come al solito, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati ogni volta pubblico un nuovo video, vi lascio la parte pratica, ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao! E partiamo qui da questa tabella, ragazzi, per capire l'effetto di gennaio, il January Effect su euro-dollaro. Guardate, qua c'è il change, cioè quanto è cambiato in la variazione che ha avuto a gennaio il cross nei vari anni, si parte dal 1980, la tabella si ferma al 2009, ma la potete poi tranquillamente continuare, e qui tutte le volte che effettivamente si è verificato questo match. Vedete qua c'è stato il match, il 80-81 e così via, sono state veramente poche le volte che non c'è stato il match, nell'89, non c'è stato nel 90 e nel 91, tirando un po' le somme ho visto che circa il 73% delle volte con questa stagionalità si è andati a profitto, ovviamente stiamo facendo un discorso probabilistico basandoci esclusivamente sulla probabilità dei dati, però insomma questa tabella è sicuramente a nostro supporto. Guardate, vi faccio vedere quello che è accaduto negli ultimi due anni, andiamo sul settimanale, andiamo a vedere il 2000, vi faccio vedere però aspettate, fatemi mettere su un grafico un po' più pulito, andiamo qua su, ok perfetto, quindi fatemi togliere anche questa linea, andiamo a vedere il 2019, guardate, nel 2019 siamo qui a gennaio, vedete che è stato creato questo massimo e il prezzo non c'è più tornato, nel 2019 è solo una volta cercato di ritestare questi massimi, è arrivato un po' più sotto e poi è sceso drasticamente, andiamo a vedere nel 2018, 2018 guardate, 2018 gennaio, aspettate fatemi mettere, 2019, 2018, settimanale, eccolo qui, questa è la prima settimana di gennaio, vedete qui ci sono stati dei massimi, toccati il, eccolo qua, 29 gennaio, qui abbiamo dovuto aspettare la fine del mese, qua, vedete che dopo questi massimi il prezzo che cosa ha fatto? È andato verso il basso, quindi abbiamo avuto un gennaio che è cresciuto molto, toccati i massimi il prezzo è andato poi verso il basso, e così via se torniamo all'indietro. Vi consiglio di reggervi questo articolo, il January Effect for the US Dollar against the Euro, è un articolo del 2010, ma ne trovate poi in rete anche altri, questo sta su dailyeffects.com, che vi spiega un po' come funziona la stagionalità, sarà molto interessante vedere quello che potrebbe succedere quest'anno sull'euro-dollaro, perché ragazzi quest'anno quali sono le considerazioni che possiamo fare rispetto a cosa sta accadendo in Europa e che cosa sta accadendo in America? In America abbiamo i tassi di interesse con la Federal Reserve che sono stati nel 2019 alzati, ok? E quindi c'è stato questo, abbassati scusate, c'è stato questo fenomeno. Poi c'è la trade war di Trump con la Cina, ok? Poi c'è stato in Europa, abbiamo avuto la Brexit, tra l'altro Brexit che il 31 gennaio, se va tutto bene, dovrebbe svilupparsi. L'Italia che in Europa è in grande difficoltà e non è l'unico paese, c'è la Germania che sta attraversando una recessione. Quindi insomma ci sono tutte queste considerazioni da fare per cercare di capire se euro-dollaro potrebbe andare verso l'alto o potrebbe andare verso il basso. Direi che magari su questo aspetto ci torniamo a gennaio nel mese, quindi cominciamo a vedere quali sono gli sviluppi del cross nel mese di gennaio per poi capire quale movimento potrebbe prendere. Ragazzi fatemi sapere se voi avete mai fatto trading sul January Effect su euro-dollaro, sono molto curioso di saperlo, che altro dirvi? Noi ci vediamo prestissimo, grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao!